Allora, niente, chi sono? Ve l'ho già detto, lavoro come experience designer a Codemasters, anche questo ve l'ho già detto, anche questo ve l'ho già detto, un sacco di cose, potete andare. Mi sono laureato in astronomia a Padova, che non ha nulla a che vedere con il lavoro che faccio, e niente, suono la chitarra, compongo musica, mi piace recitare, faccio molte attività sportive, mi piace la montagna, gioco ai videogiochi, e non sono molto diverso da tutti voi, cioè ho passioni, molte delle quali prevedono l'utilizzo delle orecchie. La mia talk si chiama Lo Zen è l'arte del sound design, quindi per chi non è familiare con lo Zen, che cosa è lo Zen? Io non sono un maestro Zen, quindi non sono la persona più indicata a rispondere a queste domande, ma se cerchiamo sull'internet che cosa è lo Zen, troviamo questi tipi di definizioni, una scuola buddista che asserisce che l'illuminazione può essere ottenuta attraverso la meditazione, la contemplazione dell'io e l'intuizione, piuttosto che attraverso fede e devozione, questa scuola di buddismo è praticata principalmente Cina, Giappone, Corea, Vietnam, è un approccio, può essere un approccio ad attività o talenti o argomenti che enfatizza la semplicità e l'intuizione, piuttosto che il pensiero convenzionale o fissarsi su degli obiettivi. Wikipedia dà una definizione abbastanza simile, dicendo che de-enfatizza la conoscenza per quello che è, cioè per essere semplicemente conoscenza e favorisce piuttosto la comprensione diretta attraverso una pratica spirituale e l'interazione con un maestro. In realtà qualcuno direbbe che è proprio l'esperienza diretta di quello che potrebbe venire chiamato la realtà ultima o l'assoluto e purtuttavia non è separato dall'ordinario e dal relativo. Che cos'è il sound design dunque? Sempre Wikipedia descrive in modo molto lungo il sound design come l'arte e la pratica di creare suoni per una varietà di esigenze e praticamente creare elementi sonori usando tecniche e strumenti di produzione audio ed è impiegata in una varietà di discipline tra cui film, televisione, videogame, teatro, registrazioni, live performance, musei, sound art, eccetera eccetera. Ci sono tanti sotto elementi all'interno del sound design come foley, mixing, field recording, sound editing, dialog editing e così via e così via o creare appunto suoni da zero attraverso l'uso dei sintetizzatori. Bene, durante la mia pseudo breve esperienza io sono passato attraverso varie fasi, attraverso una fase in cui non avevo idea che esistesse sound design, una fase in cui ho preso coscienza che esistesse una cosa che si chiamava sound design, attraverso la fase in cui può essere fatto in modo interattivo, videogiochi, attraverso la fase in cui ho iniziato a lavorare per la prima volta e attraverso le fasi in cui adesso ho un po' più di esperienza e ci sono altre problematiche. e in tutte queste fasi sono un essere umano come voi e come voi ho dei sentimenti, ok? E ci sono paure o frustrazioni o ansie che abbiamo tutti i giorni. Magari siamo interessati e abbiamo la passione, siamo figata, voglio fare tutto, voglio imparare tutto di questo argomento, è bellissimo. Dopo si comincia e dice, ah questo magari mi piace un po' di meno, però come faccio a trovare lavoro, ecco non ho trovato lavoro, allora non sono bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Nel mio caso poi io lavoro in un settore che è quello del racing, che è molto specifico, e quindi dopo un po' ti ritrovi a fare sempre la stessa cosa, over and over and over. E bisogna trovare un modo per ribaltare questo paradigma, per cercare un po'... Volevo trovare un approccio diverso semplicemente al sound design, che non era semplicemente ho questa cosa da fare, gli metto dell'audio fine. E quindi niente, vi racconterò una breve storia introduttiva, perché la prima parte da fare in tutto questo processo è appunto la preparazione. Nanin, un maestro giapponese dell'era Meiji, ricevette la visita di un professore universitario, che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nanin servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò a traboccare il tè e poi, non riuscendo più a contenersi, disse «Eri colma, non ce n'entra più!» «Come questa tazza,» disse Nanin. «Tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua tazza?» Ecco, anche noi, in questo modo, attraverso le nostre esperienze e quello che abbiamo vissuto finora, siamo pieni di opinioni e congetture. E lo saremo sempre, è una costante della nostra vita, saremo sempre pieni di opinioni e congetture. E queste ci aiutano nella vita di tutti i giorni ad andare avanti, no? Altrimenti bisogna rifare tutto da capo tutte le volte. Però, quando si lavora nel sound design, a volte, anche magari quando lavorate su un solo suono, è importante lasciare alla porta tutte le opinioni e le congetture che noi abbiamo fatto su quel suono. E' normale nel nostro lavoro, appunto, a volte essere frustrati, nervosi, ansiosi e, non lo so, magari l'ultimo progetto che abbiamo lavorato non ha venduto e l'azienda è un po' in crisi. O abbiamo fatto dei suoni e sono stati rifiutati dalla produzione e non gli sono piaciuti. O abbiamo mandato 100 curriculum e tutti ci hanno rifiutato. Oppure, non lo so, tutte queste cose qui non sono una misura del nostro valore come sound designer, ok? E niente, noi tutto questo stress lo portiamo all'interno del nostro lavoro. E' normale, tu arrivi al lavoro la mattina, che ne so, sei salito sull'autobus e qualcuno, non so, ti ha spinto. E quella mattina lì quella roba ce l'hai in testa e non riesci a staccarti, sei frustrato. Hai appena discusso con la tua ragazza o il tuo compagno o la tua compagna a casa per qualunque ragione. Hai visto la talk di Mattia Celotti e Daniele Galante e hai detto, eh ma cazzo, ma io non sarò mai così bravo. A me è capitato, perché c'erano lì, guardavo, cazzo, che roba. Cioè, da grande voglio essere loro. Però, a volte hai delle deadline super vicine. A volte i colleghi ti criticano. Niente, a volte siamo noi che ci mettiamo pressione. Stiamo lavorando su un suono, su un gioco, su un progetto. No, questa roba, cioè, deve essere perfetta. Deve vincere un Oscar domani. E questo gioco esce. Tutte le aziende che mi hanno rifiutato quella volta là, adesso mi devono scrivere. Mi devono dire, cazzo però quanto sei bravo. Adesso vieni a lavorare da noi. O semplicemente abbiamo, vogliamo che il lavoro che abbiamo fatto, tutti i colleghi pensino che siamo speciali. Ecco. E a volte, appunto, come abbiamo detto prima, non ha nulla a che vedere con tutto questo. La cosa che dobbiamo sempre ricordarci è che noi non siamo il nostro lavoro. Però, per la natura del nostro lavoro, il nostro lavoro è un'espressione di chi siamo. E se noi siamo nervosi, siamo ansiosi, siamo frustrati, quella frustrazione, quell'ansia, quel nervosismo lo porteremo all'interno del nostro lavoro. Per forza di cose. E, tra l'altro, come abbiamo visto, ad esempio, dalla Torre di Daniele, il nostro è un lavoro estremamente tecnico. E non importa che facciamo videogiochi o che facciamo film. Perché anche chi fa post-produzione audio o lavora per televisioni o teatro ha un sacco di robe tecniche attraverso cui deve passare. Cioè, fare prendere l'audio-riproduzione di un film, cioè, può essere una roba titanica ogni tanto. Magari hai 30 microfoni, chissà dove ce li hai, c'è il carrellino con mixer, stare lì a controllare tutte le robe. O in tv, che hai le cose da fare live, che ne so, quelli che fanno Formula 1 hanno almeno 160 microfoni lungo tutta la traccia. C'è uno che ascolta tutte le radio. È estremamente tecnico ed è così facile perdersi nei tecnicismi. È così facile dire, ah però questo sistema che abbiamo immaginato per riprodurre i suoni è bellissimo perché è la versione più elegante, è proprio bella. Ci faremo una tolka alla GDC di questo sistema, è bellissimo. E però chi ascolta il nostro lavoro non gli interessa quanto era bello il nostro sistema e non gli deve interessare. Non è tenuto a conoscere la tecnica che c'è dietro. E infatti, come ha detto Daniele, siamo partiti con 10 e poi siamo scesi a 4 perché non ci serviva. Non sono proprio tenuti a conoscere la tecnica. E quindi, niente, io vorrei che questa tolka che sto dando oggi, se riuscite a portare a casa qualcosa da questo, vorrei che iniziassimo un po' a guardare i suoni che facciamo al modo in cui lavoriamo. Vorrei che iniziassimo a spostare un po' il paradigma dalla scienza all'esperienza. All'esperienza che possiamo creare nelle menti e nei cuori di chi vivrà il nostro lavoro. E per me tutto questo comincia dalla registrazione. E anche qui direi che iniziamo con una breve storiella. Un maestro zen, indicando una campana a vento, chiese al suo allievo «È il vento che produce questo suono o è la campana che produce questo suono?» «Né il vento né la campana produce questo suono», rispose l'allievo. «Ma la mia mente, quando il vento soffia tra le campane, genera una vibrazione. E questa vibrazione viaggia attraverso l'aria e raggiunge il mio orecchio. E diventa suono. Prima che la vibrazione raggiunga il mio orecchio, non c'è suono. Il suono è solo all'interno della nostra mente». E il maestro disse «Questo non è vero. Anche se la mia mente lavora ma il vento non soffia, la campana non si muove e l'aria non vibra, allora non c'è suono. Tutti fanno un suono. L'intero universo produce un suono, anche se nessuno lo ascolta». Perché vi racconto questa storia? Perché è importante che iniziamo ad imparare ad ascoltare tutti i giorni. Per il nostro lavoro è ascoltare. È l'unica cosa che dobbiamo fare tutti i giorni. E come i maestri zen pregano tutti i giorni, anche noi secondo me dovremmo impegnarci ad ascoltare e a registrare tutti i giorni, almeno un suono. Lo so che siamo sempre impegnati, siamo sempre di corsa. Non importa. Registrate 30 secondi. «Eh, ma io sai, non ho il registratore, poi non ho il microfono». Boh, io nelle mie tasche ho questo. Me lo porto sempre in giro. È piccolo. Non sono sponsorizzato, by the way. È piccolo. Ho preso questo perché è piccolo e costa poco. Quando andate nei siti, vi diranno «Eh, non dovete prendere il Sony PCM di 100, se no non siete veri sound designer, perché è quello fighissimo. Però costa 500-600 euro. Se mi cade, si rompe, lo perdo, piango per sempre e non registro più niente. Mai più. Perché lo stesso in camera, chiuso in ginocchia, piango. Questo costa 120 euro, più o meno. Se mi rompe, si cade, lo perdo, vabbè, mi girano. Però magari fra un mesetto me lo prendo un altro. Eh, ma al momento non ce li ho tutti questi soldi. Telefono. Tutti ne avete in tasca uno. Potete registrare col telefono. Non state lì a farvi le pippe mentali, eh, ma se non avete questo software, questo hardware, che costa? Eh, allora non siete sound designer. No, non è vero. Cioè, prendete Call of Duty? Call of Duty, tanti suoni, sono stati registrati con un Sony M10. È un registratorino tipo questo, costa anche di meno, forse. Adesso non è più in produzione. I sound designer erano in giro, ce l'avevano sempre in tasca, registrato, figo, lo mettiamo in gioco. Ok? Questo è un paio di cuffiette. Non serve altro. Tra l'altro, per me questo coso qua è comodo. Con un cavetto, l'attacco al computer, fa da... mi scarico i suoni, ha tanti pattern diversi di registrazione, quindi posso anche sperimentare con cose che non sono mono. e la verità è che quello che registrate, non importa cos'è, potete... non so, non so cosa c'è qui. C'è un telecomando? Questo. Fine. Quanti secondi sono? Cinque. Non avete tempo di registrare cinque secondi? Valle. Ok? Ce li avete. Non potete dirvi in tutta onestà che non avete cinque secondi della vostra giornata per registrare un suono ed ascoltarlo. Io, ad esempio, una delle cose che facevo era eh, ma non c'ho spazio dove tenerlo perché giravo con questo. Questo era il mio portafoglio. L'ho portato apposta. Non lo uso più. Ho detto, cazzo, non è possibile. Ho cercato, ho guardato ai miei comportamenti e ho detto, non lo uso mai. Cosa uso? Uso una carta di credito, la patente, fine. Adesso è tutto qua dentro, me lo metto in tasca e ho lo spazio per portarmi questo. e delle cuffie. Ok? Quindi, niente, registrate tutti i giorni. E, come abbiamo detto, è importante anche che ascoltiate tutti i giorni. Quindi, quando registrate, il microfono funziona in un modo un po' diverso dalle nostre orecchie, quindi mettetevi un paio di cuffie. Sono piccoline, ve le portate. Eh, ma non sono le AKG ultimo modello. Non importa. Non importa. Perché tanto poi ci arriviamo dopo. Cioè, io prima ho visto la talk di Mattia, figata. Però, cioè, lì devi uscire con 15 microfoni, ti prepari, boh, due mesi per farlo, ti fai gli Excel, quello che vuoi registrare, cioè, un botto di preparazione, un botto di robe. Non è che Mattia, boh, si è svegliata una mattina e lo fa. C'è tanta preparazione dietro che noi non vediamo e noi vediamo queste cose e ci viell'ansia. Dobbiamo farlo anche noi, ma non sarà mai come quello lì. No, non deve essere come quello lì. Non importa se è sbagliato. Serve a noi. È una cosa per noi. Poi, mano a mano che andiamo avanti, aggiustiamo il tiro. La cosa più importante, appunto, è ascoltare. Quando ascoltate, mentre registrate, cercatevi di immergervi nel suono che state registrando. Certo, naturalmente vi verrà da concentrarvi sul suono che state registrando. Poi piano piano inizierete ad ascoltare tutto il resto. E cos'è tutto il resto? La prossima volta sapete che lo fate. E cercate di farlo molto piano. Così non vi disturba più avanti. Oppure cos'è la cosa dopo? Handling. Handling noise. Ce n'è tantissimo. La prossima volta imparate a dove mettere le mani in modo da minimizzare l'effetto dell'handling. Possiamo fare anche questo esercizio più volte al giorno. Quello di ascoltare, dico. Non serve che registriamo necessariamente tutte le volte che ascoltiamo. Però è importante che durante la giornata ogni tanto ci fermiamo e ascoltiamo. Dove siamo? Cosa sta succedendo? Chi è che è stato sendo? In che fila era? Circa là. E poi ce n'è stato qualcun altro. Non importa. Vi verrò a prendere dopo. No. Tra l'altro la cosa interessante è che la mente naturalmente cerca di focalizzarsi sul suono che stiamo registrando. Quindi dobbiamo anche andare un po' contro a questo cocktail party effetti che si parlava prima. Cercare di aprire la nostra mente e ad ascoltare a tutto il resto. E di tutto il resto ce ne accorgiamo appena andiamo a fare editing. Quindi magari dopo che avete registrato il suono tutti i giorni un altro consiglio è di editare tutti i giorni. Quel piccolo suono tanto sono 5 secondi 10, 20, 30 secondi. Tu ci metti a editare 30 secondi? Due minuti? Due minuti? Ce li hai due minuti in una giornata? O no? Eh, lui dice di sì quindi ce li avete anche voi. Io personalmente quando faccio editing per questo tipo di processo cerco di non stravolgere il suono nel senso quello è quello che ho registrato e quello è quello che è. Cerco, vabbè magari se ho perso mezz'ora a mettere il microfono nella posizione ad ascoltare a fare cose che lo sto pasticciando che ho fatto un sacco di rumore taglio vado al suono che mi interessa e cerco di creare una take che sia il più naturale possibile personalmente mi piace creare una take che sembra che sia stata registrata in una volta sola lascio anche un po' di di room tone che è il rumore dell'ambiente e dei pre ad esempio con questo cosino qui a volte fa un po' di rumore un'altra cosa che impariamo è quanto possiamo spingere il gain su questa cosa qua prima che il rumore diventi fastidioso le prime volte magari tiriamo a mille fa schifo la seconda tiriamo a due e non si sente niente la terza magari iniziamo ad aggiustare il tiro quindi questa è la cosa che che mi piace fare quando edito tutto il resto potenzialmente si può fare dopo una cosa interessante appunto pulire questo suono se se avete a disposizione un editor spettrale tipo isotope tipo spectra layers tipo paint no non so paint non credo è interessante quanto meno buttare dentro il suono che avete registrato e vedere come com'è tra l'altro Reaper ce l'ha integrato scusate Reaper per te no niente ad esempio Reaper ha l'edito spettrale non so se è un editor spettrale ma almeno puoi vedere lo spettrogramma integrato quindi buttateci un occhio è interessante potreste vedere delle cose che non avete sentito e magari poi iniziate a sentire quelle cose volete toglierle quanto volete toglierle perché come dicevamo prima tutto fa un suono quindi il suono che state registrando non è solo il suono che avete registrato ma è il suono che avete registrato in quella stanza e come la stanza reagisce a quel suono anche quello fa parte del suono che avete registrato quanto di quello volete togliere quanto vicini eravate al microfono quando avete registrato quindi quanta stanza c'è e così via a me piace lasciare il più possibile è per questo che lascio un pochino di room tone perché magari se poi voglio usarla in un futuro e ho bisogno di pulirla per varie ragioni posso farlo usando dei denoiser e cose del genere dopo che abbiamo fatto tutto questo archiviare 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 un suono è relativamente semplice una delle ultime fasi però inizia a richiedere un po' di pensiero su quello che abbiamo registrato quindi in genere si cerca di identificare delle parole chiave che poi vengono utilizzate per ritrovare il suono all'interno di una di una libreria tu lo metti dentro e dici oggi ho bisogno di clash bang crash metal cioè scrivi e non trovi niente perché? perché la prossima volta sai che se cercavi quella cosa lì gli metti il nome giusto si mettono cose tipo non so nome nome del microfono data di registrazione e così via però però lì è una parte importante perché stiamo appunto cercando di capire che cosa abbiamo registrato stiamo mentre prima ci concentravamo sulla parte audio qui stiamo andando più sul come classifico questo suono che cos'è come lo ricerco questo suono quindi andiamo un po' più sul contenuto e e niente e da lì una cosa che mi piace fare che ho imparato a fare facendo voice hack perché è un hobby che ho è voice over la mia insegnante quando mi fa imparare gli script mi dice prendi lo script respira e leggi ok quindi leggo quando ho finito di respirare basta tolgo la pagina e poi dico la linea che ho letto e quello che l'emozione che io ho respirato dalla lettura quella poi uscirà espirando e questa cosa è interessante farla anche con i suoni se io respiro mentre ascolto quindi mi concentro sulla mia respirazione che cosa succede succede che posso iniziare ad associare quel suono a un'emozione e quell'emozione si dà il caso che sarà l'emozione che questo suono susciterà nella persona che ascolterà quel suono non è importante cioè a me interessa scrivermele queste cose dico ah questo suono io gli associo a questa emozione qua non è importante cosa scrivo è importante che lo faccio dalla testa mi sento questo e questo poi col tempo magari aggiusto il tiro anche lì magari vedo che tutte le altre persone quel suono irrita ad esempio come un voiceover che ti fa arrabbiare come diceva prima Daniele magari a me piaceva tantissimo e poi vedo a lui non piace tutto il resto dello studio non piace ok quindi magari questo suono aveva un'emozione diversa associata e e quindi si va al punto dopo che è chiedere se chiedere feedback come diceva anche Mattia feedback 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 e lo so che quando iniziamo soprattutto con questo tipo di esercizi che in cui all'inizio possiamo incontrare difficoltà è difficile a volte mettere fuori il proprio lavoro perché appunto una delle cose che ci crea frustrazione magari è appunto il giudizio degli altri ma come tutte le cose che ci creano frustrazione come tutte le cose che ci fanno dire no non me lo porto il registratore perché ho il portafoglio troppo grosso sennò poi sono una valigia ambulante come tutte queste piccole cose mano a mano che ci esponiamo o non so proprio come funziona questo questo registratore che ho preso boh non sono confident mano a mano che lo usi tutti i giorni diventi più abituato e tutta quella fase di insicurezza passa e così anche col feedback più ne chiedete più ne ricevete più vi abituate e quella cosa passa nel senso iniziate a distaccarvi dal fatto che voi non siete il vostro lavoro quindi se quel suono lì riceve feedback negativo non è feedback su di voi è feedback su quel suono quindi boh magari all'inizio cerchiate degli ambienti positivi di cui sapete che vi potete fidare se questo è un problema per voi e e pubblicate questi suoni online chiedete feedback se sapete che ci sono delle persone fidate e piano piano cercate di espandere questa cosa ok e e questo feedback magari salvatevelo da qualche parte così in futuro se avete voglia potete riguardarlo una volta che abbiamo fatto questa cosa possiamo iniziare ad andare oltre e chiederci va bene abbiamo ascoltato e cosa ascoltiamo noi tutti i giorni beh ascoltiamo la realtà ascoltiamo quello che poi in teoria ma non è proprio vero le persone si aspetteranno di sentire e qui vi racconto un'altra storiella gli studenti di Zen stanno con i loro maestri almeno dieci anni prima di presumere di poter insegnare a loro volta non è un'altra cosa manin ricevette la visita di Tenno che dopo aver fatto il consueto tirocinio era diventato insegnante era un giorno piovoso perciò Tenno portava zoccoli di legno e aveva con sé l'ombrello Dopo averlo salutato, Nanin disse Immagino che tu abbia lasciato gli zoccoli nell'anticamera Vorrei sapere se hai messo l'ombrello alla destra o alla sinistra degli zoccoli Tenno, sconcertato, non sape rispondere subito Si è reso conto che non sapeva portare con sé il suo zen in ogni istante Diventò allievo di Nanin e studiò ancora sei anni per perfezionare il suo zen di ogni istante E noi, il suono che abbiamo registrato, dov'era? Era alla destra o era alla sinistra? O era centrato? Quanto è ampio il suono che abbiamo registrato? Quanta parte del panorama stereo occupa? E cosa cambia se poi nel mio editor lo sposto a destra o a sinistra? Era vicino o era lontano? E cosa cambia? Come faccio a prendere un suono che ho registrato vicino e a farlo diventare lontano? No, non è solo un passabasso perché le frequenze alte si smorzano prima Scoprirete che anche un po' di medie spariscono Scoprirete che l'interazione della stanza in cui quel suono è stato registrato Ha un sacco da dire sul suono che avete registrato E anche questo informa la nostra registrazione E cosa cambia se registro un suono dall'alto o dal basso? Sono tutte considerazioni che poi vi troverete a fare mentre state registrando Sei lì che stai registrando e dici Ma se mi allontano e non cado dal palco Cosa succede? Se registro da sopra o da sotto Cosa succede? È diverso? Cosa cambia? E perché ci servono queste cose? Perché noi nella vita ci troviamo normalmente a destra o a sinistra di un suono Sopra o sotto Vicini o lontani E anche quando poi lavoriamo Ci troviamo a dover mettere un suono o a sinistra o a destra O vicino o lontano E tanti suoni sono registrati vicini E quindi se noi tutti i giorni ci alleniamo a farli sembrare lontani Anche se sono stati registrati vicini O almeno a sapere ascoltare cosa è vicino e cosa è lontano Poi riusciamo a ricrearlo un po' meglio E come lo riempiamo questo spazio che abbiamo a disposizione? Riusciamo ad esempio con i suoni che abbiamo registrato A immaginare una storia In cui questo suono si muove all'interno di un ambiente Da dove arriva questo suono? Dove sta andando questo suono? Sono passi Ok? Ma da dove arrivano? Da di là Va bene, cosa c'è di là? E c'è una scala Allora ci sarà un po' di riverbo E dove vanno questi suoni, questi passi? Dove stanno andando? Eh beh, stanno andando al pianerotto Allora poi non è più una scala Poi cambia Sarà, che ne so, legno, vuoto Ah Ah ma E cosa sta facendo su questo pianerotto? Eh, apre una porta Ah ma allora magari passi sulla scala prima Ci sono anche delle chiavi Ok? Tutte queste piccole cose Informano Informano la nostra Tutto quello che facciamo E quindi appunto Una volta che riusciamo a capire Come ottenere il realismo Cioè a ricreare una situazione di vita Di tutti i giorni Possiamo passare allo step dopo Che è la talk Che faccio l'anno prossimo Perché non ho abbastanza tempo Che è L'astrazione Cioè come prendiamo Suoni quotidiani E li rendiamo astratti O meglio Se torniamo alla storia di prima Quella delle campane a vento Che fanno rumore Ed è il rumore che fa il vento E sono le campane che fa il vento Ed è la nostra mente che fa il vento E che fa il rumore Ok? L'astrazione è Come la nostra mente fa il rumore Sono rumori che non necessariamente esistono Suoni che non necessariamente esistono Ma che la nostra testa Crea e aggiunge per i fatti suoi Che ne so In tutti i film che guardate Di Bruce Lee Ci sono Per ogni pugno c'è un bush I bush non sono suoni veri Ok? A meno che siete in macchina Passa la macchina Vabbè, ok Però quando tiri i pugni Non sono suoni veri Perché ce li immaginiamo? E niente E da lì poi possiamo andare Ad astrazione E l'astrazione verrà utilizzata Per informare l'iperrealismo Ma Niente Ad esempio posso farvi sentire Un paio di suoni Che ho registrato Il primo suono che ho registrato Quando ho iniziato a fare questa cosa È Questo Ma non funziona Non sono stato io Ti giuro È Igor è andato da quella parte È stato lui È Igor è andato da quella parte È stato Igor Muta un attimo Che provo a riattaccare Che non va l'audio Ok Niente Non funziona l'audio Ah ok Adesso funziona Tipo Questo è stato uno dei primi suoni Che ho registrato Avevo uno zainetto Vicino Lontano Qua ero sopra Tipo E qua ero sotto Ad esempio Altri suoni che Ho registrato A volte sono inaspettati Cioè a volte Io mi sono dato questa cosa Una volta ero con Igor A casa di un nostro amico E gli ho raccontato Di questo progetto Che sto facendo Mi ha detto Una cosa fighissima Che devi assolutamente sentire Ho detto Ok Sentiamola Ok Questo file finisce qui Ho fatto Quando ho fatto l'editing Ho dovuto attenuare molto Perché poi c'era Un moglie Igor Che era Modificata Pazzesco Incredibile Però sono quelle Cioè devi anche pensare A aspettare A dire questa cosa Anche se lo senti Ok Devi No adesso non lo dico Perché se no mi rovina la take Queste cose qui Un altro giorno Stavo lavando i piatti Avevo una Una borraccia Di metallo Girata al contrario Sul coso Per asciugare i piatti L'ho colpita per sbaglio Ficou Ficou Eh ma mi direte voi Sono tutti suoni Che Che sono Forti Se vogliamo registrare Altro abbiamo bisogno Di un microfono migliore Ma non necessariamente È a posto Cioè Per me Si può accusare da qualche parte Sta roba qua O se no si può tenere Così per i fatti propri Niente Quindi io Onestamente Voglio solo invitarvi A Cercare di ragionare Di più Su quella che Che è l'emozione Che questi suoni Che create Suscitano Piuttosto che Alla tecnica O alla strumentazione Che utilizzate Per arrivarci Perché quello Non è mai importante Non è importante Se usate Reaper Anche se dovreste Vedere Federico Non è importante Potete usare Audacity Potete usare le Do Che ci sono sul cellulare Adesso Non importa È importante Che lo fate E Vi divertite E che capite Qual è L'emozione Che Che ne risulta E Niente Basta Teniamoci in contatto Se volete Queste sono Le mie info E se avete delle domande Sono pronto A rispondere